Ecco qui, fantastico, solite fregature che capitano ogni tanto. Mi si è disattivata la videocamera, proprio gli ultimi 5 secondi per finire la lezione. Allora, stavo dicendo le 1.13, eh sì, della teoria sociale della Chiesa non c'è scritto nulla sul libro, appunto perché io sono superficiale, mentre invece i libri no, vero? Allora, io non l'ho trovato, se voi riuscite a trovarla, io non l'ho trovato, ho cercato dappertutto, non c'è, quindi aggiungiamola sotto, ok? Siamo a pagina 336, ah sì, la prima internazionale, niente, i socialisti si riuniscono in questa associazione internazionale dei lavoratori, c'è la prima, la seconda, poi ci sarà anche la terza internazionale, si chiamerà proprio così. Da qui viene poi il famoso inno dell'internazionale socialista. Però, va bene, lasciamo perdere, perché sono cose che, va bene, secondo me secondarie. Vediamo le 1.13, appunto, con l'enciclica dererum novarum, interviene sulla questione dei diritti sociali, e dei diritti, appunto, sì, diritti sociali, afferma in pratica che ci si deve comportare cristiana, come si può dire, ci si deve comportare cristianamente, quindi state scrivendo, ci si deve comportare cristianamente, il datore di lavoro deve provvedere, deve evitare lo sfruttamento dei suoi lavoratori, soprattutto donne e bambini, deve comportarsi come un buon padre di famiglia, attento alle esigenze dei suoi lavoratori, e allo stesso modo, come si può dire, gli operai devono garantire di lavorare con onestà e con la dedizione, con la massima dedizione possibile. Questo, voglio dire, è un sistema che potrebbe funzionare, è chiaro che è meno radicale, di certo, della posizione, da una parte, capite, dei marxisti, o addirittura degli anarchici, che arrivano a pensare all'abolizione della proprietà privata, all'abolizione dello Stato, perfino, o la posizione, dall'altra parte, dei liberisti, che negano ogni possibile aiuto, se non di carattere volontario, di buon cuore, quindi comunque è un possibile aiuto, soprattutto da parte dello Stato, verso chi è più sfortunato. Diciamo che il pensiero cristiano si trova più o meno a metà strada, perché appunto garantisce comunque la libertà d'impresa e riconosce il diritto alla proprietà privata. Bene, io ho finito, davvero, guardate, due minuti e cinquanta, che spreco, vedo se riesco a fondere insieme i due filmati. Intanto vi saluto, ragazzi, studiate, arrivederci.